Riaprire parzialmente gli stadi in Puglia tenendo conto del costante miglioramento della curva epidemiologica da coronavirus con 129 casi positivi in tutta la regione al 30 giugno e della volontà di permettere ai tifosi di assistere alle partite che possono valere una stagione per la loro squadra del cuore. E' la richiesta che il Bari, in una nota congiunta sottoscritta con il Lecce, ha presentato all'attenzione del governatore pugliese Michele Emiliano in vista della prossima conferenza Stato-Regioni. I due club non hanno diffuso i dettagli del documento contenente indicazioni di massima ed eventuali misure attuative che possano favorire una prossima riapertura, seppur parziale, degli stadi. Indicazioni al momento top secret legate ad alcuni punti chiave su tutti il fatto che l'evento sportivo si tenga all'aria aperta e la disponibilità di un ampio numero di posti a sedere, circa 60.000, sugli spalti del San Nicola, il che permetterebbe a un numero ridotto di accessi, sia pur limitato anche i soli 7.806 abbonati, di assistere alla partita del 13 luglio, valida per il secondo turno della fase nazionale dei play-off, quando la squadra di Vivarini entrerà in gioco in tabellone. Un'iniziativa finalizzata a tutelare passione e interessi di sponsor tifosi appassionati e a portare un'ulteriore spinta verso la normalizzazione dell'industria calcio, la definisce il Bari in una nota ufficiale, spiegando come i due presidenti, Luigi De Laurenti, Sessaverio Sticchi Damiani, abbiano mosso un primo passo per studiare fattibilità, modalità e tempistiche per avvicinare al ritorno a una normalità da tutti auspicata, soprattutto in un settore definito trainante come quello sportivo calcistico, una mano tesa verso una componente importante dello spettacolo sportivo, i tifosi che ora attendono risposte.